sai oggi mentre stavo tornando a casa ho incontrato luca davvero si mi è passato accanto e non mi ha nemmeno salutato che maleducato ah so cosa vi a dire si cuntami cunti perciò sti oi non escero in casa e via a betto perciò io ci stava cimio ma chi dici vero e giù ti vitte ti salutavo no vero disgraziato aspetta ero tu cunti una ma ci ricesti chi chissà un neccomboitazione e cunti a via permettere di fare che giù che fice no non proprio come dici e tu gioco sbagliasti cumbà tu ce la via dire c'è girai cumbà ma si c'era io si c'era io meno male c'era io picchi a finire a sciarri a finire cumbà arrivavo se c'ero io fai favore o mi farei già mi agitai cumbà appena sento betto io mi agito ma mamma non mi devi scusare cumbà se mi fai parlare infatti io voli sa capire cumbà qualcuno prima o poi mi la va a dire picchi chissani chi cantare hanno sempre il culo cumbà mi fai una se non mi interrompi farò cumbà e che disse palla palla non si può dire niente picciotti me e tu stai dicendo pretendi ci cumbà cristiani come a chisso si non vissera di raccogliere burrani e sottosule no che hanno sempre fuitune sempre solide a mezzi sacchetti e poi si combattono a cussetti pochi su superiori a travagliare mi non vittagliere ma scusare se mi agito cumbà io le ingiustizie e cama arrestano se la vissera avanza stura con baciuriciste si è un cornuto a cussi chiaro e tondo cornuto ma insomma di voi zittere ma per parlare di stava fare un domandino comune stava fare picciotti potete vedere altri video come questo nella pagina romea se non volete perdervi i prossimi lavori mettete mi piace alla pagina e se vi è piaciuto questo video condividetelo così faremo altri episodi della serie differenza italia sicilia ciao picciazze